Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'Agenda del Tempo Libero. A Godiasco lunedì 14 gennaio, spettacolo blues, gospel e rock dei The Drive. Da martedì 15 a domenica 20 gennaio, ultima occasione per visitare il presepe di Gandolfino da Roreto a Vigevano. Al Teatro Cagnoni di Vigevano, mercoledì 16 gennaio, Geppi e Cucciari porta in scena Perfetta. Venerdì 18 gennaio, al Teatro Carbonetti di Broni, Instant Theatre con Enrico Bertolino. Il Civico 17 di Mortara invita venerdì 18 gennaio alla presentazione del libro I Cascinali dell'Agro Mortarese. Venerdì 18 gennaio, giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, San Nazaro de Burgondi propone Parfavucada Rib. Al Teatro Dardano di Montubeccaria, sabato 19 gennaio, Fiodla Nebbia in concerto. Mercatino di Modernariato e Vintage nel centro storico di Pavia, sabato 19 gennaio. A Casteggio, sabato 19 gennaio, grande caccia al tesoro alla Certosa Cantù. Sempre sabato 19 gennaio, al Teatro Cagnoni, spettacolo Vigevano Danza per l'Unicef. A Casorate Primo, degustazioni, liturgie e falò per la festa di Sant'Antonio di domenica 20 gennaio. A Ponte Inilza, domenica 20 gennaio, passeggiata naturalistica con visita guidata alla Cappella di Sant'Antonio. Per gli amici a Quattro Zampe, San Nazaro de Burgondi propone domenica 20 gennaio, camminata e benedizione. A Stradella, domenica 20 gennaio, aperitivo in musica con Paris Blues. Infine, domenica 20 gennaio, a Mede, concerto lirico non solo Verdi. È tutto, per le vostre segnalazioni chiamate il numero 0381 09 25 25 oppure mandate una mail a pubblicità-telefavia.tv Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS